53 giorni di sciopero, un presidio fisso, la Pasqua celebrata con le famiglie riunite in Sala Mensa. La storia della tale s'ora volge a un lieto fine. Tutto era iniziato il 22 marzo scorso, quando la società francese aveva appalesato l'intenzione di chiudere la sede di Chieti Scalo, offrendo ai lavoratori la possibilità di essere ricollocati in altre due sedi al nord. Da lì in poi tanti appuntamenti mancati tra sindacati e proprietà che mai erano riusciti a trovare una concertazione sul destino di un centinaio di dipendenti. Neanche gli incentivi proposti dal management erano stati utili a risolvere la situazione. Ad intervenire nella questione poi c'era stata anche l'opera del vicepresidente della regione, Giovanni Lolli, che aveva cercato di dare incentivi alla società francese, garantendo così una solidità economica, visto che lamentava proprio difficoltà su quel versante. Dall'altra parte la consapevolezza che quell'azienda dagli anni 70 aveva rappresentato l'eccellenza nella produzione di componenti radio per la difesa. Nella giornata di venerdì 13 maggio la svolta. È arrivata in tarda serata la firma dell'accordo sindacale, grazie all'arrivo di una società interessata ad acquisire la sede di Chieti Scalo. Si tratta della tecnè di Poggio Fiorito, che acquisirà anche buona parte dei lavoratori Thales, mentre i restanti saranno inglobati nella società malese Sapura, la quale Thales ha ceduto un ramo d'azienda. Un lieto fine sancito dai cancelli chiusi. Questa mattina infatti, nella sede di Via Mattei, non compaiono più le bandiere delle sigle sindacali, porte chiuse nella sala presidiata per quasi due mesi e la notizia di una nuova era per una storica sede sui lavoratori.